Chissà, chissà, abbiamo avuto un contatto, va bene, che la scuola non è che è diversa dalla vita, anche la grammatica, anche la matematica, anche cosa adesso? Cos'è che dobbiamo fare? E chi ha detto che siamo a Milano? Non siamo a Milano, no! Volete sapere dove siamo? Siamo in una grande città, è infatti un cantante di quella città, dopo di noi, di là canterà. Siamo a Napoli, fatemi vedere che siamo a Napoli, dite con me, è e lunedì, è martedì, è mercoledì, è giovedì, è un po' più alto, è venerdì, è sabato, vieni qua, avanti la mano sinistra così, chi ce la fa? Bravo lui! Pronti? Vai! Ginocchio, ginocchio, gomito, mano, via! Ginochio, ginocchio, gomito, mano, via! Ginocchio, ginocchio, gomito, mano, via! E le mani così, in alto, fatemelo vedere, Oh, e uno, due, e uno, due, tre, e uno, e due, e uno, due, tre, e così impariamo la settimana napoletana a Milano, a forti, via! La settimana, la settimana, la settimana voletana, e lunedì, e martedì, mercoledì, e giovedì, e venerdì, e sabato, domenica, tutti impariamo la settimana, guardiamo la settimana per imparare la settimana. Il tappurato, lonti insieme, con la sera e il tuo fratello! La settimana, se le pianeti, e tutti i fatti siamo più dieci! Le viagri a tutti, durante l'anno, 50, tutti lo sanno! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.